Sì, la miglior medicina è Vittoria. Una cosa che è sicuramente buona è che giochiamo subito una partita presto, nel senso che non ci passa troppo tempo, non abbiamo neanche troppo tempo per passare, quindi dobbiamo già buttarsi nella preparazione della partita di Siena che è più forte secondo me di quello che dice la classifica, quindi come lo dico e mi ripeto tutte le volte sarà sicuramente una partita da prendere con le pinze, soprattutto dopo una nostra non migliore gara, anzi contro Trento, per cui penso che la cosa buona è che abbiamo subito la possibilità di riscattarsi e spero che riusciremo a farlo già domenica. Si incontra una squadra che oltre ad avere tanta fame di punti, vista la posizione di classifica, ha anche cambiato tanto e quindi c'è voglia di rivalsa. Sì, c'è Savani che da noi è andato là, sicuramente poi cercherà di fare una bella partita, che è giusto che sia. Hanno preso Van de Vorde, come noi abbiamo preso Mattei, ha cambiato due volte l'allenatore, nel senso di rientrare con Cicchiello, l'allenatore di prima. Si sa che è una squadra, è una società in difficoltà in questo momento, in ricerca dei punti, ma per quello è una cosa che li rende molto pericolosa. Per cui dobbiamo tornare in campo con la consapevolezza di avere i mezzi per vincerla e fare in modo di farlo.